Buongiorno, sono Michele Valentini, un architetto di origini pugliesi e romano d'adozione. In questo periodo della mia vita ho scoperto il piacere di scrivere e ho inventato un personaggio, un anziano ingegnere che lascia la sua abitazione dopo la scomparsa dell'amata moglie ed entra in una casa per anziani, un po' per scelta, un po' per non creare problemi alla vita dei suoi figli. E all'interno di questo luogo, che dovrebbe ospitare la marginalità della sua vita, lui scopre un nuovo interesse, indagare nella vita degli altri. È così che si cimenta alla scoperta di verità nascoste, nascoste nella piega dell'animo umano e tassello dopo tassello scopre delle verità dolorose che a volte non ha il coraggio di rivelare e le conserva all'interno del suo cuore come in un vaso di pandora che non potrà scoprire. In questo ultimo romanzo, La Contessa, edito da Armando Editore, c'è la storia forse più dolorosa tra le sue indagini. Buona lettura.